Patierno, intanto vediamo all'analisi della partita col Campobasso, un peccato non aver portato a casa i tre punti che erano meritati per quanto prodotto. Sì, a noi dispiace tantissimo non aver portato i tre punti a casa perché come avete visto abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Forse un secondo tempo eravamo un po' mosci, però abbiamo avuto anche nel secondo tempo occasioni per fare il gol e ci è andata male. Come ti spieghi quei 20 minuti brutti di inizio ripresa dopo un bel primo tempo? Automaticamente ti viene quando sei in vantaggio 1-0, pure per tenere il risultato a nostro favore, ti va di inteteggiare 20 metri indietro e stare un po' le squadre lunghe. Però poi subito, come ho ripetuto prima, abbiamo avuto occasioni per andare di nuovo in vantaggio, non abbiamo sfruttato al meglio quelle occasioni lì. C'è stata molta paura per quella capocciata che hai subito e sei rimasto a terra per qualche minuto, si vedeva anche l'ambulanza entra o non entra, insomma abbiamo rivissuto dei momenti un po' di panico. Tu che cosa ci sai dire visto che hai vissuto in prima persona questo evento? Io ho perso conoscenza quando ho preso la botta in testa, infatti quando è venuto il massaggiatore loro mi chiamavano però io non riuscivo a rispondere perché non sapevo, in quel momento c'è più il dolore, è stata l'agitazione, poi mi dispiace che tutto lo stadio sia agitato, infatti mi sono fatto forza, mi sono alzato pure per tranquillizzare la gente. Si è resuscitato? Sì, sì, pure per tranquillizzare la gente mi sono alzato anche se stavo malissimo. Senti, abbiamo visto concludere ma spesso fare assist, ti stai sempre più adeguando ai movimenti di questo 4-3-3? Sì, sì, alla fine c'è come meglio delle altre partite perché abbiamo avuto più occasioni da gol e per me, anche se io vivo per il gol, però mandare gli altri in porta non sono egoista, quindi è meno importante che la domenica vinciamo. Senti, eri in campo all'Aquila in Coppa Italia, ora sarà campionato e farà molto molto più freddo, sei pronto a questo clima diverso e contro una squadra obiettivamente fortissima? Sì, io come avevo già detto in Coppa Italia, loro secondo me è una delle squadre migliori, sia in tutti i reparti sono molto forti. Speriamo che portiamo i tre punti a casa e a parte i tre punti è perché dobbiamo far bene, anche per noi, per gli altri anche ci mancano tre partite e dobbiamo portare meno punti al nostro favore. Senti, con alcuni infortunati e con due squalificati come Coletti e Speranza è il caso di fasciarsi la testa? A noi sia Ivan che Coletti sono due giocatori importantissimi, però come avete visto anche le persone che a volte sostituiscono i titolari fanno sempre il loro dovere. Abbiamo riserve molto interessanti, non è quello il problema. Mancheranno perché bene o male, come ha detto Tommaso, è uno che ti fa girare la squadra, però anche gli altri che abbiamo sicuramente saranno pronti a sostituirlo.